Bentornati su TrainFamiglia, io sono Enrico e oggi parliamo di Enigma di Quercetti. Si tratta di un gioco realizzato in collaborazione con Unito, che è l'Università di Informatica di Torino ed è un gioco perfetto per bambini dai 5 anni in su. Con questo gioco i bambini potranno scrivere messaggi in segreto in modo molto semplice e utilizzando questo tubo che andremo a comporre adesso. Per montarlo è opportuno magari farsi aiutare da un adulto se siete un bambino. Il primo passaggio da fare è quello di andare ad attaccare queste strisce con numeri e lettere per andare poi a creare gli enigmi sui 6 cilindri presenti all'interno. Una volta montato così è come si presenta il gioco Enigma. Come vedete è un gioco anche facilmente portabile in auto, quindi un gioco perfetto anche da viaggio. Si potrà andare a creare una chiave criptata come ad esempio questa, che è quella che viene spiegata sul libretto di istruzioni e il gioco consisterà nel svelare la frase segreta criptata proprio da questo codice. Per andarlo a fare basterà ruotare questa parte bianca, andare a decifrare le varie lettere e riuscire a trovare la chiave segreta. Si tratta di un gioco che sicuramente stimola la fantasia, stimola l'intelligenza e il ragionamento da parte del bambino. Se quindi siete alla ricerca di un gioco un po' più particolare, destinato a chi ama le sfide, chi ama dei giochi tipo rompicapo, Enigma è sicuramente un gioco perfetto per bambini dai 5 anni in su, ma in realtà sono sicuro che si divertiranno anche i grandi. Come al solito mi piacciono i giochi quercetti perché sono innovativi e diversi dai classici giochi, vanno a stimolare i nostri bambini e gli permettono appunto di imparare sempre cose nuove divertendosi e giocando. Io qua sotto in descrizione vi lascio il link per acquistare questo gioco Enigma, volendo per acquistare altri giochi quercetti. Se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi per non perdere tutti i video e le recensioni che pubblichiamo ogni settimana. Per questo video con Enigma di quercetti è tutto, noi ci vediamo alla prossima recensione. Ciao, Enrico. Enrico 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 Enrico